and now get ready three two one ladies and gentlemen please welcome this is deep teacher show playing the best deep and soulful house music grooves from all over the world eccoci 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 pronti anche questo sabato sera a tenervi compagnia con il deep teachers show tre ore di house groove come sempre suonato selezionato da lorenzo carbone toni m e dal sottoscritto davide padulosi mi raccomando ogni sabato qui su radio carina anche in streaming su carina tv sul canale del digitale terrestre 697 carina tv e naturalmente se volete riascoltarci quando volete potete farlo in video su youtube o in audio su mix cloud il nostro podcast e allora siamo pronti anche questo sabato a tenervi compagnia la prima sequenza è affidata a me e iniziamo subito con un pezzo vecchio funky dei brothers johnson stamp chi non lo conosce però ve la suono in versione deep teachers lesson number one cheoochissimo cheoochissimo ciao 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 Grazie a tutti. 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 e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.